Ho guardato attentamente da lontano Leonardo e quindi devo dire che non mi sento assolutamente di uscire con lui questa sera perché l'ho guardato con molta attenzione, ho rivisto in lui tutta quella falsità che ho trovato e che mi sento addosso e che sento proprio che avverto e l'idea di pensare che sarei dovuta uscire con lui a cena mi ha fatto venire un blocco allo stomaco che non riuscivo neanche più a prendere il caffè, queste sono le mie sensazioni indipendentemente da tutto e da tutti e dai giudizi e dai valori che soltanto io posso dare a me stessa per quello che sento e per quello che mi ascolto, magari non sarò immediata ma a volte ci sono dei tempi molto rapidi, io sono abituata anche per una questione un po' analitica mia di avere i miei tempi e quindi non sono riuscita a ballarci, non sono riuscita a parlarci, non mi dispiace, non ti sopporto proprio, non ti sopporto proprio, solo a guardarti mi viene proprio, infatti prima sono rimasta imbambolata, ho cercato di capire cosa provavo perché mi faccio tante domande proprio perché, però ti guardavo non ho fatto un ballo con te niente, anche perché inutile non c'è sentimento, non c'è stato niente, quello che poteva esserci non c'è stato e un recupero.